Non mi dimmerda No Allora Evviva Facciamo Il lato positivo È che sia io che il creatore Dell'estensione stiamo guadagnando Allora Vladimir È tempo di succhiare non di espellere E Vediamo un po' In Chaos Tricks Allora la W La W La metto La metto a 50 bits Ragazzi La Q la lasciamo a 10 Perché penso non userà nessuno La Q giustamente E E la Ebo a quant'è? A 30 va bene Bilanciamo perché la W ha un cooldown gigante E rompe troppi coglioni Cioè è pesato più che la ulti Quindi Lei devo metterla così Ok Vedo sta già succedendo il bordello E Trandol con l'ignite Attenzione Un allie Ha stato scelto La Q la lasciamo a 10 Din 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 Vieni qua Vieni a farti succhiare Vieni a fa Sacchete Ok Devo stare focussato per farmare bene Quanti danni che gli sto facendo Scusi gentilissimo Stia lì per favore Grazie Ok Gli daremo un sacco fastidio Ok Abbiamo anche la W Le spell sono quasi al completo Vieni qua Vieni qua a farti toccare Vieni fa Brum 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 Oddio guarda come sei spaventato Guarda come sei spaventato Guarda che paura gli ho fatto Non sta funzionando ragazzi Non riesco Che fastidio Che fastidio Ma proprio adesso le scoregge Mamma mia Eh niente Non riesco manco a farmare Se solo sapesse in che condizioni Se solo sapesse in che condizioni l'ho ucciso Si vergognerebbe proprio Si vergognerebbe proprio Ok Perché premia sempre spazio e puzzetta Perché secondo le estensione è Farting jumps Quindi salta no? Mentre fa questa cosa Lui sta saltando Hai dire che partire con questo oggetto È perfetto Il timing della scoreggio col pilastro di trandolo È stato poetico Purtroppo ste piccolezze me le perdo Vai Amumu Minchia Yorick con la Comet oltretutto Lui è veramente un seguace Sbaglio è calata la cosa di uscire il pick Ma in realtà c'ho una coda di tipo 15 pick No no C'è Ecco perfetto Grazie Mi andava di perdere un po' di vita gratis Ecco qua Ah se solo avesse una W per salvarmi Tutti questi danni che ho preso Vero? Grazie Ok Grazie Franz Di 10 sub Hai già 700 pick Non ho capito cosa è successo E dovevo dei ping nel frattempo Però Irrilevanti Vai vai Non ci credo Non mi ha fatto la Q Vabbè Allora Forse Quella W Non Eh Vabbè Cioè Allora Va bene Stiamo giocando con un piccolo handicap Ci sta Ci sta Grazie Franz Ti aggiungerò agli 8 pick Che già hai Altre 2 Sei contento Sa che la W La W va un attimo Ribilanciata ragazzi Grazie Proprio quello che volevo Mamma mia No ma sta W No Non posso lasciarla a 50 bits Veramente Usate un po' anche la E ragazzi Su via Eh Per bilanciare un po' No Che ne dite Vabbè Voglio dire That's the content we want Non riesco manco a mirare Sui minion Non riesco nemmeno a mirare Eh dai Raga Che palle Sto in scorreggio Non ce la faccio più Allora Allora Riscaldo si Poi con tutte Con tutto sto gas metano Che esce Che esce da Vladimir Riscalda ancora di più Capito Effetto serra Fa Fa più effetto serra ragazzi Beh Vladimir Cosa vogliamo fare qui Vogliamo fargli un po' di danni Non penso di far molti danni Vabbè Ho avuto possibilità di usare la W Mi sono salvato da morte certa Praticamente No non è vero Però Ok A farm come si è ammessi Nonostante le difficoltà Abbastanza bene Devo dire Abbastanza bene Si staranno facendo i void grabs Immagino Boh Non c'è nessuno I don't know Forse è meglio Max Bene Tanto non mi serve Tanto Del resto Non posso vincere In 1v1 Così Abbiamo proprio Ecco qua Vabbè In realtà A salvarci Salviamo Quindi Per il resto Ci va abbastanza bene Ok Me ne vado Ok Immaginavo Che fosse guardato Face rush Urca Esco Ucciderlo Sto tizio Se avessi la ulti Si Oh ma porca puttana Mission impossible Sto cercando di rifullarmi Oh c'ho la ulti Tra poco Non sprecatemela Che facciamo la kill Ok E no No Che è tutta sta gente Allora Fermi Dai ma che palle Non c'ho la W Ok Abubu Uccidilo Vai Abubu Vai Let's go Ce l'abbiamo fatta ragazzi Nonostante tutto Ehi Festeggiamo Ghost Tutto Perfetto Se vai a vedere Gli Instagram Delle squadre Vai a vedere Ad esempio Non ho capito Cosa 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 stai dicendo Penso Tu abbia sbagliato Live Oh Un po' di scorreggio Come piacciono a noi Era necessario Grazie Grazie Elite Fatemi andare Back Ecco Perfetto Oh Oh Regale i soldi Tipo TikTok No Non voglio regalare soldi Oh si fighta qua Stiamo riuscendo a fare cose Incredibile Incredibile Mena sto scemo Preso Preso Basta Basta Vado a vedere Gli Instagram Delle squadre Delle squadre Cosa Quello per fare Disegno tecnico Le Oh si è calmata la situazione Guarda qua Sono velocissimo Sono velocissimo Guarda arriva la mossa del risucchio Brother Mossa No Come ho messato Vabbè Guarda qua che pizzica arriva No Ma porco Non penso proprio Scoppiato Molto bene Vedete quando riesco di usare la ulti facciamo anche le kill Fantastico Abbiamo un sacco di soldi Possiamo andare a prendere il Mejai qua Allora prendo questo Roque La rocket bell sarebbe bello Però purtroppo non ci sono i numeri in questa estensione Pensate che figo sarebbe tipo con questo Fare il pigiare anche il rocket belt Adesso ne faccio fare Stavo pensando Ho trovato un tizio Farmelo fare Customizzabile In modo tale a poter mettere qualsiasi tasto della tastiera Con questa roba È figo Purtroppo questa estensione che ho è carina Ma non è customizzabile Un po' Eh Capito Merda Oh È sempre così O stompano o vengono stompati Cioè non ce l'hanno una via di mezzo Sti tizi Vabbè Attimo che Sa che il ragazzo vuole andare a dar fastidio Ok Gli faccio capire che non può andare a dar fastidio al mio bro Va bene Ok Scusate ma la gente che gioca Che guarda le live di League of Legends Dove è finita in sti giorni? È stata un'estinzione di massa per caso? Cioè è buon per loro Eh Gli fa bene alla salute Però Non lo so le ferra sincero Non lo so E me ne vado Via Sono troppo veloce Vieni qua Eh no Adesso vieni E adesso vieni qua Che palle sto competitive Tutto bene Jack Maledetti Di sabato sera Non rispettano proprio gli streamer Che non c'hanno un cazzo da fare Come me Merda che caldo ragazzi Io ho la finestra aperta Potrei aprirla ancora di più la finestra Ora mi sa che l'apro di più Guarda ce l'ha Vagistas Vabbè raga Però senza l'handicap È troppo facile È diventato un Vladimir Normalissimo adesso Quanto fa Bologna? Prima c'erano 30 gradi Ora Dopo il scontato Un po' di meno Ok Sembrava tutto così convinto Il ragazzo Ora sono morto Perché mi ha intraccolato Prima di morire Sono di Bologna Devo dire Se dopo andare a vedere L'instagram Del colle Atterrato Perché? Cioè lo guardo A parte che non so neanche cosa sia Colle atterrato Che cos'è? Una località turistica Un monte Un agriturismo Che cos'è? Che richiesta bizzarra È talmente specifica E particolare Che quasi mi viene voglia Di guardarlo davvero Per scoprire Che cosa sia Ah La famosa Ah Ma è vero Come ho fatto A non pensarci Ragazzi È la famosa Scuola calcio Colle atterrato Ma cioè Ma anche voi Non ve la ricordavate Ah Mono Non ci eri andato L'altro giorno Con Con tuo cugino A colle Atterrato Esperto di Ma beh Ma è ovvio Cioè adesso Non conosci ste cose Come enemy killing spree Sto bidone Capisco 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 ragazzi Niente Abbiamo già perso Il megiai Tutto giusto Tutto giusto Ma adesso Scusate ragazzi Io chiedo perché Chiedo perché Non sono più nel giro Ma Lit L-I-T Che League Italia Cos'è L-I-T Come canale Intendo Che cos'è Perché prima c'era PG Sport Il nuovo PG Cioè ma nel senso Che hanno fatto Ribrand o nel senso Che PG è fallito Ah il ribrand Di PG Sport Ah ok 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 il ribrand Mi pingano Non so cosa vogliano Ah sono sempre loro Ok Ricordate quando dicevo Gli alleati Stompano Vengono stompati Ora stanno venendo Stompati Fanno sempre Ma perché Poverete Minchia Mi sforzo Una P Deve essere bella Con la Blackfire Torch Ora che ci penso Oddio Mi avete attivato Robbe E non era neanche Sbagliato Era un po' Sprecato Ma Posso non essere Slowato Di continuo Ok Penso sia morto Il ragazzo Se non gli arriva Scudio Q Morto Via Che casino Ragazzi Dopo ci passi A vedere Si trova in Abruzzo Sì 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 Dopo finisco sto game Prendo Prendo la macchina Arrivo Tanto Abruzzo C'è Abruzzo Si sai Che è vicino a Bologna Prendi un attimo La fondo male Viene anche tu Ammon Ci viene anche tu Viene a fare un salto Anche te Viene anche tu Ci vediamo lì Ragazzi C'ho il furgone Per il triciclo Arrivo Penso sia un po' Lontani In triciclo Almeno Almeno in bici Almeno in bici Ah ci vediamo lì Ragazzi Pensavo fossi Cina Padova Ah Non lo so Io ho fatto l'itis Non mi hanno insegnato La geografia Se Padova è vicino a Bologna Allora è vicino anche All'Abruzzo Buonasera Signor Fieri Buonasera Fonta Fa un salto anche te A Colle A Berratto A te Ah o A Terratto Non mi ricordo Come si chiama Raduno Stiamo Vendita Meet and Greet Del Mercer Aga Sì Oh comunque C'è bei danni La torre Mi fa rire che loro mi inseguano A prescindere Se solo non facesse Quattrocentosessantamila danni In tre colpi Potresti fare Raga come sponsor Il collo Atterrato Vai ci sta Oh Atomino 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 Grazie mille Il sub Molto gentile Eh potrebbe essere Un'idea Vai Ammon accetta Sì Ammon accettato Se offre suonino a tutti Accetto Visto Tutto a secondi piani Panino con arrosticini Che è la specialità Sì sì Poi vedo l'instagram Si chiama Colle Atterrato Dopo lo cerco Finita la partita Trovo un post Che mi piace Ci metto anche un like Lebronzo James Cirdix 100 Basta che dopo Fieric Faccia da guida A colle Atterrato Ah purtroppo Non sono Perfetto Vedo che Sono partite robe Che non dovevano partire Mi ero quasi Dimenticato Che la chat Poteva attivare robe Un bel ghost Una bella w Quando meno te l'aspetti Una ulti Ah purtroppo Non sono esperto Del luogo Lo ammetto Ah io rompo tutto qua Olè Ora rompo Più velocemente Rompo tutto In effetti Perché ho fatto Il Mejai In una partita Dove la chat Può premermi i tasti Ci ho pensato Tardi Perché si era Calmata un attimo La situazione Quindi ho abbassato La guardia Lebronzo James Cirdix 100 Quello che non sai Si inventa Chi ha mai sentito Parlare di colle E atterrato Dopotutto Parla per te Cioè Se non conosci Una località Così importante Perché sei un ignorante Tanto per cominciare Stiamo parlando comunque Di un punto di interesse Non da poco Informatevi Certo Certo Xamon Cirdix Amo come si fa Solo il bar È un quartiere di Teramo È diviso in due nuclei Meglio individuati Come colle Atterrato basso E colle Atterrato alto Collegati dalla strada principale Che la traversa È denominata Via Giovanni Ventitresimo Bene Quante cose che si imparano Grazie mille Amo Per i beats E soprattutto Per la conoscenza La conoscenza Non apprezzo Il mio era un grosso bait E tu ci sei cascato Oh miseria Grazie James Niente Mi avete catturato L'ammetto You got me Qualcuno ha addirittura Flashato Già morto Vabbè Eh però questo mi dà Altra ability haste Così spammo ancora di più Capito Così chi si terrano Sì sì So che è abruzzese È di collaterrato Merda Quante cose si scopri Sì Bene ragazzi Sappiamo una Una cosa in più Dai ora Ora però Sono gasato Voglio finire sta partita Così andiamo a vedere Instagram Muovetevi Ok Ok Nascere a collaterrato Non porta fortuna No a quanto pare Allora Tanto trando il 91 minion Un bro C'ha un oggetto e mezzo Io so Fini la build Com'è Enemy dominating Ah è 17.5 Vai Caitlin C6 C6 Sacrificati per la torre Brava Tu sacrificati per nulla Ci vediamo a un prossimo video Roar Tigrotti Minore 3 Per il colle Boom Forza colle E rompiamo Rompiamo tutto Ok Grazie Dichiare Sono per i 53 mesi E grazie Titan Base per i 54 Molto gentili Grazie ragazzi Grazie Grazie mille A casa A casa A casa A casa Molto bene Allora Ottimo Grazie a tutti Grazie a tutti